Bentornati a Buone Cose, prosegue questa nostra puntata da Boscomisola perché il colonnello Nobili ci ha prestato un pezzettino della riserva, ma dove ci troviamo in particolare? Lo facciamo dire dal nostro prossimo ospite che tra l'altro qui è di casa, Patrizia Luciani benvenuta a Buone Cose Grazie, qui siamo nel cuore della stazione Mesola Gorvolano, stazione del parco del Delta del Po Certamente, quindi siamo nel cuore del Delta del Po e anche di buona parte della provincia di Ferrara Chi è Patrizia Luciani? Beh, è Presidente del Consiglio di zona dei Soci Cop qui di Ferrara E perché l'abbiamo incontrata qui a Boscomisola? Perché, come ricorderete, nelle scorse puntate ci siamo occupati di un prodotto Anzi, di una famiglia di prodotti che sono stati riscoperti da un vero e proprio artista della panificazione Olivio Vassalli, che insieme al suo team, alla sua squadra, è riuscito a creare quattro tipologie di prodotto Anzi, mi risulta che adesso siano addirittura cinque perché c'è anche la focaccia con le olive Con il grano monococco, il piccolo farro, il grano primo ad essere stato coltivato dall'uomo E perché è così importante questo? Perché ne parliamo con Patrizia Luciani Perché Copa Alleanza 3.0, che è anche il nostro editore, ci fa piacere ricordarlo Investe molto sui prodotti del territorio, come questo e sui prodotti sani Ancora come questo, guarda caso Noi abbiamo un rapporto molto stretto con la ditta Vassalli La ditta Vassalli fa parte di una filiera, di una filiera agroalimentare In cui viene controllato il prodotto dalla fase iniziale, cioè dal seme, fino al prodotto finale Allo scopo di garantirne la salubrità Perché è importante il grano monococco? O meglio, le farine prodotte dal grano monococco? Perché questo è una tipologia di grano molto antica Tant'è che anche nello stomaco di Ozzi è stato ritrovato il grano monococco È molto importante perché si può dire che sia un po' il cibo del futuro Nel senso che è un cibo che è povero di glutine E quindi può essere usato anche da quelle persone che hanno problemi nell'utilizzo dei grani moderni Che sono invece molto ricchi di glutine Ed è anche un grano che ha delle caratteristiche, come dire, proteiche Certo, il pane di Ozzi infatti è stato definito proprio perché insomma Nello stomaco della mummia del Similano c'erano tracce di grano monococco Ma anche la sua stuoia era fatta poi con gli steli del grano C'erano altre particolarità Fa sorridere che il cibo del futuro sia il cibo del passato Questo fa sorridere, ma è vero Sì, può far sorridere, però di fatto sono grani che non sono frutto di incroci Sono grani che sono i grani antichi Che sono da una parte molto resistenti alle avversità atmosferiche o ai parassiti E dall'altra parte hanno questa ricchezza di proteine Ma dall'altra parte sono poveri di glutine Quindi questo consente, come dire, di guardare al passato Come un elemento di riscoperta di quello che potrebbe essere il nostro futuro alimentare Ok, allora, domanda Se io il grano monococco oggi comunque cerco di coltivarlo Come ci spiegava il professor Brandolini Come ci spiegavano Olivio e Raffaele Vassali Se io cerco di coltivarlo in zone appenniniche marginali Cioè dove ho quel fazzoletto di terreno che non saprei cosa farci Il grano monococco, piccolo faro, lì mi ci cresce bene Che cosa mi c'entra con la provincia di Ferrara Dove c'è il grano ferrarese, la pianura, le grandi distese Anche questo prodotto di qualità Beh, c'entra perché Vassali di fatto è una filiera Che nel complesso riguarda circa 400 ettari di terreno Di cui una parte in provincia di Ferrara Quindi è per questo che noi oggi parliamo di grano monococco qui a Ferrara Perché è una filiera che comunque sia nella fase iniziale Della fase produttiva, cioè della pianta emozione del seme Sia nella fase, come dire, finale della lavorazione del prodotto Quindi il pane che poi viene inviato ai panifici per la cottura Certo Riguarda il ferrarese E quindi insomma c'è l'idea C'è l'idea che quindi che Ferrara che oggi coltiva Soprattutto nella parte, come dire, più occidentale Coltiva grandi distese di grano Perché in questa parte dove siamo noi oggi Che è una parte sabbiosa Si coltivano soprattutto ortaggi, orticole Si può immaginare la produzione di questo grano così pregiato Come appunto un qualche cosa che va incontro alle esigenze dei cittadini Dei cittadini Dei cittadini degli utenti Delle persone Delle persone, dei clienti E quindi anche Copa Alleanza 3.0 Che è la più grande cooperativa per numero di soci in Europa Addirittura insomma è interessata a prodotti così piccoli e locali O piccolo e locale è un valore aggiunto in questo caso Piccolo e locale è sicuramente un valore aggiunto Come dire, noi come cooperativa, come Alleanza 3.0 Abbiamo una storia che è molto antica Noi partiamo dal 1854 La prima cooperativa, andando poi per successive aggregazioni La prima cooperativa nostra del 1854 E quello che ci caratterizza rispetto alle altre aziende della grande distribuzione È che noi siamo intanto fortemente radicati sul territorio Come prima cosa E come seconda cosa Noi collaboriamo strettamente con il territorio Collaboriamo da un punto di vista per esempio dei rapporti con l'associazione Perché questo è un valore per noi Ma dall'altra parte noi collaboriamo per creare delle situazioni Che dal punto di vista produttivo Siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le necessità Dei nostri clienti e dei nostri soci Del resto noi come cooperativa abbiamo alle spalle una lunga storia In cui abbiamo tentato e siamo anche riusciti a cambiare il mercato Se io penso a quello che succedeva vent'anni fa Quando noi mangiavamo nella più completa ignavia Mangiavamo le bistecche ricche di antibiotici Oggi questo non succede più Ma non succede più perché Perché Coppaleanza 3.0 Con i nomi che aveva allora Che sono diversi da quello di oggi Coppestense Coppestense Di Attica e altro Sono riuscite anche con una raccolta di firme A far cambiare la legge Per cui oggi noi i prodotti non sono più vendibili nei supermercati I prodotti con antibiotici Ne sappiamo come la resistenza agli antibiotici Sia un elemento molto importante nella sanità Certo No no è vero Quindi il nostro compito è quello come dire Per quello che è nelle nostre possibilità Di cambiare anche le norme e le regole del mercato Per fare in modo che i prodotti che noi vendiamo Siano il più salutari possibili Ma anche indurre gli altri e comportarsi nella stessa maniera È vero Due pietre che girano E fanno uscire la farina Facciamo una prova Mettiamo in moto Chiediamo al nostro mugnaio Di rifornirlo Perfetto È un lavoro serio fare del pane Farlo con delle farine prodotte nel territorio dove si vive Vuol dire creare il lavoro Avere la certezza di quello che andiamo ad offrire ai nostri clienti Hanno fatto anche la pizza Adesso chi è che la distribuisce per assaggiarla? Dai Pezzettino a testa La spezzi con le mani Perché il pane si spezza con le mani Anche il bambino dallo Allora alcune immagini che avete visto nel corso di questa nostra chiacchierata Con Patrizia Luciani Riguardano una giornata che si è svolta con i bambini delle scuole Proprio da Vassalli Bacchering Dove è stato pensato, ideato, creato Appunto il pane di Ozzi da grano monococco Insomma un bel esempio anche di comunicazione questo Dietro in regia c'è Adriano Facchini Che è sempre attivo Che è attivissimo Ed è a mio giudizio anche un divulgatore eccezionale Per come sa presentare tutte le tematiche legate appunto al grano monococco E alla filiera messa in piedi da Vassalli Come sa adattare la sua esposizione ad un pubblico che è molto diverso È riuscito, io ero presente il giorno in cui ho incontrato i bambini È riuscito ad incantare i bambini E questo a mio giudizio non è da tutti Ed è positivo perché se tu riesci a colpire Ma con storie vere Perché poi voglio dire Quella del grano monococco è proprio una storia vera Tra l'altro insomma è aumentata anche la proposta di prodotti panificati con il grano monococco Perché c'è il pane e il bauletto E poi la focaccia La focaccia con le olive che è la neonata tra l'altro La pizza e la coppietta Tradizionale Tradizionale Quella dedicata a Coppa Alleanza Che la distribuisce Integrale che non è integrale Perché se lo fai assaggiare ad un bambino Ti dicono ma sai che sembra integrale ma è buono Che forse è la cosa più importante per prodotti come questi Sì, sicuramente è importante perché i prodotti non devono essere solo sani Ma devono essere anche appetibili da chi li compra E questo è ciò che è riuscito a fare Vassalli E quindi è riuscito a mettere insieme da una parte un prodotto sano, un prodotto salutare E dall'altro un prodotto che si mangia molto volentieri Certamente Bene, grazie allora a Patrizia Luciani Tra l'altro insomma noi abbiamo detto in apertura della nostra chiacchierata Che Patrizia è Presidente del Consiglio di zona dei soci di Coppa Alleanza 3.0 Ma fa parte anche del Consiglio d'amministrazione Perché insomma è il ruolo che l'espetta essendo Presidente del Consiglio dei Soci Buon proseguimento di lavoro Patrizia Grazie per essere stata nostra ospite qui a Buone Cose E voi state lì perché noi torniamo come sempre tra pochissimo